Direttore inizia questa nuova esperienza con la società del gel a calcio, quali sono le sue emozioni, i suoi sentimenti per aver ricoperto questo ruolo con l'ingegnere Tuccia e un suo amico, il mister Burcoleri? I miei sentimenti sono un mix di emozione, di orgoglio, di voglia di fare, sono estremamente motivato, ripeto far parte, essere stato chiamato dall'ingegnere Tuccia per me è un motivo di grande orgoglio, siamo in presenza di una società che ha dato dimostrazione con i fatti di fare sempre ma sempre bene e quindi sono veramente molto motivato e ce la metterò tutta, metterò tutto il mio impegno, la mia professionalità e la mia onestà H24 al servizio del gel a calcio Avete già in mente quali sono gli interventi da fare in questa squadra che già ha fatto benissimo in eccellenza? Ma questa è una squadra che ha vinto due campionati, detto ciò però dobbiamo chiaramente capire che la dimensione ora cambia totalmente, il campionato di Serie D è un campionato molto ma molto difficile dove ci misureremo con piazze altrettanto blasonate, vedi Cava dei Tirreni, vedi Regina, vedi la Frattese, ci saranno tante ma non c'era che è salita dopo il fallimento e quindi gioco forza dobbiamo renderci conto effettivamente per poter ben figurare come intervenire è una fase iniziale, stiamo iniziando a programmare la stagione e pian pianino partendo dagli under perché sono la base su cui poi poter costruire la squadra aggiungeremo i tasselli che riterremo utili. In questo momento, ripeto, stiamo iniziando ora e quindi ora ci sederemo con calma con il mister e con il presidente e faremo un'attenta valutazione di quello che attualmente è in organico e di quello che servirà.